Nel giorno in cui la propria cenza conosce il proprio futuro nell'imminente campionato di Lega Pro, con lo storico esordio fissato alla Carlo Zecchini di Grosseto, la società rossonera per giovedì prossimo si regala un amichevole extra lusso. A Milanello sarà il Milan di Filippo Inzaghi a testare la forza della squadra piacentina nel corso di un match che si disputerà a porte chiuse. Ovvio come l'intercessione del main sponsor e grande amico di Super Pippo Bruno Giglio abbia facilitato l'allestimento di una gara che per tanti rossoneri di sponda piacentina rappresenterà il concretizzarsi di un sogno. Silva, Rieti e Donna Rumma opposti a calciatori del calibro di Balotelli e Sien e Diego Lopez, solo per citarne alcuni. Tornando però al concreto, mettendo da parte i sogni, questa mattina a Firenze è stato svelato il cammino che dal prossimo 31 agosto e fino al 10 maggio 2015 vedrà impegnati Matteassi e compagni alla ricerca della salvezza diretta. Dopo il Grosseto, squadra composta per lo più da ragazzini, Forlì al Garilli, di nuovo trasferta abbordabile in terra toscana con la Pistoiese, mentre il 17 settembre alla Galleana sarà di nuovo sfida con il tutto cuoio di Corrado Colombo. Quel tutto cuoio, che due stagioni fa in Serie D, bruciò al fotofinish la formazione di Franzini al primo vero assalto, poi naufragato alla Lega Pro. Un avvio che regala più di un sorriso in casa pro, che con una tabella più che verosimile può aspirare a ridurre in maniera corposa, se non annullare il terribile meno 8 iniziale già a metà settembre. Il 28 invece al Garilli, grande sfida con la super favorita per la vittoria finale, il Pisa di Morrone, dai più indicato come la vera corazzata dell'intero raggruppamento B, che sulla carta dovrà vedersela con Ascoli, Spal e Dancona per la vittoria finale. Proprio la Spal sarà un'altra ospite illustre alla Galleana il prossimo 9 novembre, la settimana successiva trasferta nella tana della cararese del presidente Buffon, chiusura con la lucchese di un altro ex piace, Ferrante, per un match che tra nove mesi potrebbe significare sfida salvezza.